Trofeo San Bernardo A lunga cavalcata Federico Peli sigla il gol del 2-0 ad inizio del secondo tempo Un aerogol di Passoni porta la Ceam in vantaggio per 3-0 Subito dopo Pappalardo chiude virtualmente la partita appoggiando in rete il 4-0 per la Ceam C'è tempo solo per il gol della bandiera di Broggini Finisce 4-1 e la Ceam antincendio Cucciago si aggiudica la 62esima edizione del trofeo San Bernardo Grazie 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 Grazie